Martina Guigi, una vittoria importante contro una squadra insidiosa che oltretutto non vi ha fatto giocare bene per lunghi tratti dell'Italia. Sicuramente è stata una vittoria sofferta, loro hanno preso in maniera strenna, erano sentiti palloni, quindi è stato difficile anche da parte nostra che va alla concentrazione, per la pazienza, per tirare le palle perché andavano a essere molto fastidiosi. Tre muri consecutivi nel finale, due terminanti nel terzo set, è importante anche dal punto di vista psicologico per tutti voi vincere per interrompere questa serie. Poi martedì c'è Bacca. Sì, sicuramente abbiamo cercato di raccordare le difficoltà che c'è, è mancata nelle ultime partite, quindi fondamentali di attacco con la difesa, penso che ci sarà andato bene, proprio perché avevamo voglia di mangiarci la palla in tutti i set. Sì, Bacca, come la vedi? Un copro da vincere? Sicuramente sarà dura, perché loro sono una bella squadra e già abbiamo fatto fatica all'andata, e poi col fatto che è martedì abbiamo appena un giorno per recuperare, sicuramente non sarà un'attività facile, c'è così tanto a concentrazione, soprattutto a livello psicologico, e noi speriamo bene perché è una partita che sappiamo essere molto importanti e quindi vogliamo portare a casa. Grazie.